segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te lo userò per chiederle siccome si parla moltissimo dei nuovi ministri il nuovo governo eccetera non le faccio fare il gioco del toto ministri guardi come sono brava la risparmio però una cosa gliela chiedo soprattutto in tempi come quelli che stiamo vivendo la deleghe servizi segreti lo so che non si chiama così ma insomma quel ruolo lì a chi lo dovrebbe affidare giorgio meloni ma guardi la mia opinione che dovrebbero essere due caratteristiche la prima una persona leale alle istituzioni perché quello è il posto più delicato dove si manifesta il massimo di lealtà alle istituzioni e faccio un esempio l'autoria delegata su autorizzazione della magistratura insieme con il presidente del consiglio possono per esempio decidere intercettazioni preventive cioè si possono controllare i telefoni preventivamente dall'aver commesso un reato naturalmente questo in italia è garantito da procedure democratiche c'è il presidente del consiglio però diciamo è delicatissimo poi c'è la corte d'appello il procuratore generale presso la corte d'appello di roma cioè ci sono varie chiavi non è come in altri paesi e tuttavia è un messaggio molto delicato secondo deve essere una persona di fiducia del primo ministro della presidente del consiglio se sarà diciamola e l'onorevole meloni deve essere una persona di fiducia perché questo lavoro è un rapporto prevalentemente fiduciario mentre per gli altri incarichi quelli di ministro naturalmente c'è ci può essere una dialettica due caratteristiche leale alle istituzioni di fiducia del presidente del consiglio fiducia reciproca perché quello è un punto cruciale perché per fare operazioni particolarmente complesse se non c'è fiducia non si può fare nulla vede qualche tempo fa una persona molto autorevole mi chiese di fare delle cose diciamo non ero più autorità delegata nell'interesse del nostro paese e io dissi a questa persona molto autorevole prima di decidere sì o no dobbiamo dire se tra di noi c'è un rapporto di fiducia e purtroppo ci conosciamo forse troppo poco per avere un rapporto di fiducia tra di noi e poi alla fine non possiamo dire nemmeno come è andata e tuttavia lo dico perché nel momento in cui si è parlato di me l'ho praticato su me stesso figuriamoci se non penso che bisogna praticarlo su altri grazie a marco miniti grazie davvero qualche minuto di pubblicità arriviamo alessio se non è urgentissimo c'è un tweet di giorgia meloni ma ve lo mostriamo dopo la pubblicità tema economico aspetta il tweet di giorgia meloni fammelo vedere al volo dai al volo vigevano lavoratori schiavi